Vediamo quali sono le caratteristiche del corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Quali sono gli obiettivi formativi di un tale corso di laurea? Gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering sono obiettivi focalizzati sempre nel rispetto ovviamente di quelle che sono le norme vigenti della sicurezza e dell'ambiente sullo sviluppo e sull'applicazione di strumenti avanzati impiegati in ambiti diversi, in particolare nella progettazione, prototipazione, verifiche e collaudo di componenti e sistemi meccanici, nella progettazione, prototipazione, verifiche e collaudo di componenti e sistemi energetici e nella progettazione di processi e sistemi per la smart production. E quali sono gli sbocchi occupazionali di un laureato magistrale in Mechanical Engineering? Un laureato in Mechanical Engineering può certamente trovare lavoro e quindi sbocco nel settore della progettazione e realizzazione di prototipi, quindi essere un ingegnere meccanico industriale progettista di componenti e sistemi. Può trovare sbocco nel settore industriale, quindi come ingegnere meccanico industriale progettista di processi di produzione. Può trovare sbocco nel settore della consulenza, quindi come ingegnere meccanico libero professionista o nel settore della formazione, quindi un ingegnere meccanico docente. Inoltre per il tipo di formazione ricevuta potrà svolgere attività di ricerca, quindi come ricercatore junior, sia presso enti di ricerca pubblici che privati. E quali sono le conoscenze richieste per accedere a un tale corso di laurea? Beh, le conoscenze richieste sono oltre logicamente di quelle che sono le materie di base, quindi chimica, fisica, matematica, informatica, tipiche queste materie dell'ingegneria, tale ingegnere deve possedere anche all'ingresso conoscenza di materie caratterizzanti l'ingegneria meccanica, come ad esempio la termodinamica, le macchine, i sistemi energetici, le misure meccaniche, meccanica applicata, il disegno meccanico, le costruzioni di macchine, le tecnologie meccaniche e gli impianti industriali. Inoltre deve avere conoscenza anche se elementare dell'elettrotecnica, dei controlli automatici, della chimica dei materiali, della metallurgia, della meccanica del continuo e delle problematiche relative alla sicurezza e all'ambiente. Ovviamente il corso in mechanical engineering, essendo erogato tutto in lingua inglese, ovviamente allo studente che si iscrive a tale corso di laurea è richiesta una conoscenza della lingua inglese, almeno a livello B2. E quali sono i corsi erogati al primo e secondo anno del corso di laurea magistrale in mechanical engineering. Nella presente slide è possibile leggere i corsi erogati al primo anno, nel primo e nel secondo semestre, per un totale di 60 CFU. Le materie indicate in nero sono quelle obbligatorie, quelle invece in rosso sono materie ed insegnamenti a scelta. Al secondo anno queste sono invece le materie che sono erogate al primo e secondo semestre. Sempre al primo semestre vengono totalizzati 30 CFU, al secondo ancora 30 CFU, per un totale di 60, quindi complessivamente 120 CFU tra il primo e secondo anno. Ancora una volta in rosso sono indicate le materie a scelta e in nero le materie obbligatorie. Secondo semestre del secondo anno i 30 CFU sono ripartiti tra il tirocinio e il lavoro di tesi finale. A ciascuno di queste due attività sono assegnati 15 CFU. Quali sono le strutture utilizzate e fruibili nell'ambito del corso di laurea? Le strutture ovviamente sono tutte quelle della sede di Cassino. In particolare la sede di Cassino di ingegneria consta di due edifici di 20 aule e per un totale di 14.000 metri quadri coperti. I laboratori all'avanguardia sono 14 dove può essere svolta attività di ricerca e attività didattica. Inoltre è disponibile una camera anecoica, tre aule informatiche e un'aula CAD-CAM, una biblioteca e tre aule di studio. Il corso di laurea magistrale in mechanical engineering prevede una mobilità nazionale e internazionale degli studenti. In particolare nell'ambito dell'Unione Europea e nell'ambito del progetto Erasmus+, per gli studenti che vogliono sostenere esami o svolgere attività di tesi presso università e istituti di ricerche europei, è prevista ovviamente una mobilità all'interno della comunità europea. Inoltre con Erasmus Placement è prevista una mobilità degli studenti anche per lo svolgimento di tirocini presso aziende, laboratori e imprese europee. È prevista ovviamente anche una mobilità presso università extraeuropee, quindi una mobilità in quelli che sono i cosiddetti paesi extraeuropei, con la possibilità per i nostri studenti di poter svolgere percorsi di studio o tesi di laurea. In tal senso periodicamente vengono pubblicati dei bandi con specifiche borse di studio che consentono appunto tale tipo di mobilità. Se siete interessati allora a iscrivervi al corso di laurea magistrale in mechanical engineering per ulteriori informazioni potrete rivolgervi alle dottoresse Fiorillo, D'Amizio e Pietro Longo della segreteria didattica, oppure contattare il referente del corso di laurea in mechanical engineering, il professore Arpino, o il coordinatore del corso di studi in ingegneria industriale, il professore Falcone. Grazie e allora arrivederci. Grazie.